La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, e l'esito finale appartiene ai timorati di Allah. O Allah, abbi misericordia del nostro profeta Muhammad e benedicilo. Cari fratelli, con la diffusione dei virus e delle influenze, dite questa dua. Mi rivolgo ad Allah, il Custode, l'Eccelso, colui che costringe al suo volere. Chiedo la protezione di Allah, il Signore dei mondi. Mi confido nel vivente che non muore mai. O Allah, preservaci da questa epidemia e proteggici da questa grave malattia, con la Tua misericordia e la Tua grazia. Tu sei l'Onnipotente. Fratelli e sorelle, condividete tra di voi questa dua e avrete da Allah la buona ricompensa. Chiediamo ad Allah, il Grandissimo e l'Onnipotente, la buona salute, per noi, voi e per tutti i musulmani.